Sarà l'autopsia a chiarire almeno una parte dei mille interrogativi che rimangono per ora senza una risposta. Il corpo di Sofìa è stato trovato alla vigilia di Natale sulla strada Cadorna tra Romano Dezelino e Cima Grappa, buttata in un dirupo in una discarica a cielo aperto. In questo posto vengono gettati sacchetti dell'immondizia, rifiuti che parzialmente avevano coperto la donna. A trovare la 43enne Ucraina alcuni cacciatori che subito hanno lanciato l'allarme, il giallo che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso è terminato in maniera tragica. Sofìa non era scappata ma era morta, abbandonata ad una trentina di chilometri da Cornuda, trovata in una posizione fetale, un particolare non indifferente e che solo l'autopsia potrà chiarire, il terribile dubbio. Era ancora viva quando è stata gettata? E chi l'ha uccisa? Tutte le piste, spiegano gli investigatori, rimangono aperte, ma l'ipotesi più accreditata rimane quella dell'omicidio-suicidio. Daniel Pascal Albanese, il condizionale rimane d'obbligo, potrebbe aver ucciso Sofia, sua compagna di una vita, e poi essersi ucciso. Gelosie e soldi forse il movente. Per il sindaco di Cornuda a scatenare tutto potrebbe essere stata una questione invece economica. Da quello che si deduce, da quello che si legge, insomma, apparebbe che non fosse proprio la gelosia il motivo che ha spinto questa persona a compiere un gesto così efferato.